Cos'è questo? Un 2-3 stella? E' Mario! Prendiamolo! Oddio! E' che c'è ancora la graffatrice, quindi finché non batto lei non posso aspettarmi la fine. Oh, God. Ok. Ehi, Olly. Non ti arrendi, eh? Sei proprio come quei Toad. Patetico. Ma non importa. Il mio progetto per la realizzazione del Regno degli Origami è quasi completo. Eh? Stai ancora cercando di realizzare il tuo malvagio piano? Ma perché non rinunci? Come osi criticarmi? Se non fosse per me non saresti nemmeno qui. Vabbè, sono stanco di dare spiegazione a degli sciocchi. Non mi lasciate altra scelta. Ah, eccola. Un'avversaria mordente. Pinzatrice. Ehi, è questa! Questa è la cosa che mi ha trasformato così! Allora ha senso se è così! È pinzato, non può... Mario! Deve vincere! Graffettali. Oh, non hai niente da dire. È solo un cane. Mi sa di sì. È un cane? Sì, lo dice anche il pubblico. Ormai dovrei essere una veterana del combattimento con materiali da disegno e da ufficio di ogni tipo. Ma questo è il più terrificante di tutti! Abbaia e morde! E a quelle graffette metalliche accuminate! Aspetta un attimo! Le graffette? Ma certo! È per questo che i nostri amici ripiegati non riescono a... ...ehm... ...spiegarsi. Perché sono stati morsi da questo brutto cagnaccio cattivo! Forza Mario! Farà pure parte della brigata cancelleria! Ma insegneremo pure a lei come ci si mette a pancia all'aria! Ok! Quante morsi insta-kill avrà? Tutte? Ok! Allora... Un modo per renderla inoffensiva che mi viene spontaneo... ...è... ...farle sprecare le graffette! Così non ne ha quando attacca a noi! Quindi è la prima cosa che proverò! Ma non ho l'on! Quindi per ora non posso farlo! Non... Non come volevo almeno! Con le... Con gli arti magni! Quindi magari con... ...eh... ...più salti! E vediamo che succede! Ok! L'on è qui dentro! Sì! Ok! Vediamo che accade! E sta sprecando? Ne è ancora parecchia però! Pinza a terra! Ah! Ah! Oh! Oh! Fuck! Graffettata a terra! Non può muoversi! E mai... Scodinzolone! Ah! Ok! Oh my god! Ok! Dobbiamo farlo subito! Qualche cosa sia! Dove specare con le graffette! Dove specare con le graffette! Ehm... Facciamo un... Sta già per spaccare con le graffette! Ehm... 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 Non si legge la lettera e si fa... Non si legge la lettera e si fa... Le ha sprecate... Le ha sprecate mi sa... Beh... Non è vero! Sono uscite! Santo Dio! Oh! Oh! Ok! Ah... Devo chiuderla! Devo chiuderla! Ok! Ah... Non c'è un on... Quindi... Devo farlo con una martellata qua dietro, credo! Ah... Ok! Dovrei arrivarci così! Posso anche mettermi un per due, credo! Tac! 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 Ah... Cuore! Tac! Per due! Tac! Non attivo la piastrella! Attacco! Scemola the boo! Birubba! Ok! Ah... Però... Spero di non aver fatto... Oh! Fuck! Sono scemo! Va beh! Fatto di fretta! Che palle! Oh! Sono quelle rosse! Wow! Ora ha delle graffette rossocope! Ma cos'è? Un film di vampiri! Dopo pranzo! Sembrano più pericolosi di quelli normali! 맛i! prepariamoci al peggio eh ma I'm dead sorry Chad sono un cretino non stavo così preso dal farlo in fretta che non ho nemmeno guardato le basi fossero giuste vabbè ok cos'anno di diverso le graffette rosse immagino che faranno più male come minimo ma la sto giocando molto male I'm sorry beh almeno avevo capito cosa fare credo non so se era la cosa giusta da fare ma sembrava ok zack zack on giù giù mano ricontrolliamo ah no aspetta sono scemo guarda stavo per rifare la cretinata tac giù on mano on on mano ok ok blablabla 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 ok ok decisamente più male riesce a togliersela di rosso ok riesce lo stesso e ne ha ancora quindi non ha nemmeno bisogno di riempirsi oh si è svuotata ok 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 allora dietro vediamo dove mi fa finire questo così funziona non è proprio dietro così ok fa scendere ah mi escura pure la visuale ok ok dammi un attimo di più il cuore sarebbe pure l'ideale ma ok devo lavorare al contrario ok qui ci posso arrivare ok sto caldo del cacchio però ok 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 così dovrebbe andare no ah fuck è che mi chiedo se va bene se non sono esattamente dietro se sono tipo qua però così no no non volevo premere a non volevo premere a sorry 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 che figura di merda mi è scivolato il dito ah che palle ok ok ah per me, per me basta che è chiaro che forse ho capito cosa fare è solo che sono così scemo che non riesco a farlo mi chiedo se riesco a sopravvivere lo spara graffette ok possiamo farlo questa volta? è già vuoto non è già vuoto adesso no, ne è ancora forse uso gli arti magni troppo presto però devo ancora riuscire a a fare quello che volevo fare perché ho cannato due volte di fila come uno scemo ok così va bene yes cioè sta perdendo PV lo stesso no, che se sto sbagliando la strategia ok ok oh fuck era adesso che dovevo usarla oh damn it ha fatto un turno di più di vabbè chi se ne frega cambia poco sto sbagliando tutto lo sbagliabile chi è meglio di noi? chi è meglio di noi? tutti come va la battaglia boss? ho capito subito cosa fare ma non ci riesco perché sono scemo ok 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 riusciamo stavolta? per sicurezza ok sveglione wake up ok ci riusciamo o no? vogliamo provare con le mani diretto no vabbè ok ok è solo arrivargli dietro e martellarlo solo quello è solo ok ok Grazie a tutti. Ok, così dovrei arrivarci. Posso anche fare il per due, no? Zack, dritto giù, Zack, ok. Ok, speriamo che basti, se non basta servivano le mani. Fag off! Ok... It's hammer time! Non era la mossa giusta. Vabbè. Danni li sta facendo, sta sopravvivendo. Ma è probabilmente il modo più maldestro di battere sto boss ad esistente. Ok. Ok, teniamo l'on allora. Per dopo. Tanto non è che finora mi ha mai minacciato di morte. Più di tanto. Magari il per due è importante. Non il per due in fatto di danni, ma... In fatto di... Numero di attacchi per fargli sprecare le graffette. In fatto di protagonissima, innanzitutto. Ok... No, ok. Anacchi per fargliere in Così attivo l'ON E non è fra i tiri no? On Giù giù Ok Raga Mi curo Nah Ah Il delay del secondo Libera de Mario Finora sta battaglia La sto affrontando come una normale battaglia boss più o meno Ok Ah 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 Ok la mano la tengo E non sprecchiamo la sto giro Per il prossimo giro la chiudiamo come si deve No shit bastava quell'altro Vabbè Tu i tuoi stupidi dentoni da coniglio Ok Can we do it Allora Direi che di opzioni ne abbiamo Vorremmo Vorremmo arrivare gli dritti dietro Mi sa che è meglio così Meglio essere sicuri Così è meglio credo Così ci arriviamo E se sposto questo Ok Vediamo se funziona Se non funziona Boh Magari devo farlo da davanti Spaccali i denti Spaccali i denti Beh Cosa Oh Le graffette dorate Eh Adesso le graffette sono d'oro Ma che Lusso superfluo Forse basterà leggere il loro prezzo A farci male Ad ogni modo non possono essere Peggiori delle precedenti E ora che facciamo Ora moriamo O le diamo un bel po' di mazzate Sulla schiena E preghiamo Sembra un po' stordo però Oh boy Sulla schiena Grazie a tutti. Va bene, vediamo che succede. Se muoio mi spiace chat, vabbè se muoio almeno il fungo I guess. It's hammer time. E' finita! Ok. Finale triste. Ma ho vinto.